Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili, un chilometro di coda per lavori tra Pisa Aeroporto e Navacchio Visignano in direzione del Bivio Firenze e Livorno. Personale su strada per lavori tra Lavoria e Gello in direzione Firenze. In A1 fare attenzione per Nevischio sul tratto appenninico tra la variante di Valico e Firenzuola. In A12 segnalato un veicolo in avaria tra Livorno e Colle Salvetti in direzione Rosignano. Sulla statale Trebis Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Valsavignone e Canili in direzione Ravenna. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato per una frana tra Popiglio e la Lima. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!